Niente guardia medica turistica diurna per il comune di Pesaro in questa stagione 2021. La regione Marche non ha rinnovato il servizio che normalmente ogni anno entrava in vigore dal 1 luglio e rimaneva a disposizione dei turisti tutto il giorno, dal lunedì alla domenica. Quest'anno, hanno spiegato dalla regione, non ci sono al momento i presupposti per attivarla. In sostanza mancano medici disponibili. Un fatto grave per una città turistica come Pesaro, ha commentato il presidente degli albergatori pesaresi Fabrizio Liva che ha già inviato una lettera al presidente regionale Francesco Acquaroli per chiedere di ripristinare immediatamente il servizio. Ovviamente questo creerà un grosso disagio nella città, perché? Perché immancabilmente porterà ad avere un ammasso di gente al pronto soccorso perché purtroppo il turista in vacanza, anche per una piccola cosa, se ha piacere di farsi vedere dal medico è costretto andare per forza al pronto soccorso e ovviamente avendo dei codici bassi anche con lunghissime ore di attesa per quello che riguarda la permanenza del pronto soccorso. Se la nostra deve essere una città turistica non può dare servizi inferiori a quello che danno altre città turistiche. In zone non di competenza della regione Marche non solo c'è la guardia medica turistica che è partita da giugno ma addirittura c'è la guardia medica pediatrica e quindi si dà un servizio veramente eccellente alle famiglie, cioè a quella platea di clientela che noi vorremmo incrementare.